Nuovo importante riconoscimento per il giovane sassofonista benementano Federico Califano, che suonerà con l'Orchestra Nazionale Jazz dei Conservatori Italiani nel concerto Dead Is Jazz il 21 febbraio al Millennium Anfiteatre di Dubai, nell'ambito delle manifestazioni ufficiali dell'Expo 2020 attualmente in corso. L'Orchestra Nazionale Jazz dei Conservatori Italiani, fondata nel 2016, ha tenuto sin dalla sua creazione una serie di concerti in Italia e all'estero, in collaborazione con artisti di fama mondiale. Sotto la guida di Pino Iodice, l'Orchestra presenterà a Dubai un excursus lungo la storia della musica italiana dal dopoguerra ad oggi, con focus dedicati alla canzone napoletana, ai cantautori, alle colonne sonore dei massimi compositori italiani per il cinema, il tutto rielaborato in perfetto stile jazzistico, senza mai tradire l'originale musicalità tutta italiana di questi splendidi repertori. Federico Califano, ammesso nell'Orchestra Nazionale Jazz, dopo severe ed estremamente selettive audizioni tenutesi presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, è stato allievo dei maestri sanniti Antonio Itro ed Umberto Aucone. La sua formazione è passata attraverso uno stage con alcuni dei più importanti jazzisti a livello mondiale, Luca Quino, Dave Liebman, Donny McCaslin, Enrico Rava, Dave Douglas, Ben Wendel, Miguel Zenon, Will Winson. Ha già suonato in contesti jazzistici internazionali di assoluto valore, esibendosi tra l'altro all'Istituto Italiano di Cultura di Parigi, a Siena Jazz, a Umbria Jazz, al Tursha Jazz Festival e al Festival Riverbury, all'Art Jazz Festival. È stato premiato a Riverbury nel 2015 con Miglior Rallievo, a Siena Jazz Estate 2017, gli è stata attribuita una borsa di studio per le capacità tecnico-artistiche dimostrate e nel 2021 gli è stata attribuita da Rotary Club il prestigioso premio Nando Giardina per giovani musicisti.